Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Grace, proseguiamo la nostra avventura con il gioco di Barkham, Barkham, Barkham City, ok, dobbiamo salire allora, proseguiamo, cazzotti e cattivi, allora, ci eravamo lasciati indicativamente in questo punto, vediamo un po', allora, ritorniamo a raccattare il collezionabile che era qua, ok, dopodiché dobbiamo salire, allora, andiamo qua, qua, qui, bravo Batman, così, atletico, ok, dunque, una volta che siamo qua, andiamo su qui, ottimo Ok Ci siamo quasi ragazzi No Batman, è qua, e andiamo ad andare su là Comando Tiger, siamo alla torre, nessun segno di vada, continuate le ricerche, affermativo, perdustiamo la torre Ok, manutenzione, manutenzione Bene, forse è caduto, spostate le ricerche nelle sezioni inferiori, affermativo comando Ok Versagli multipli acquisiti e neutralizzati Allora, insinuiamoci qua Ciò che dobbiamo fare è un po' di steltaggine ragazzi Allora, di qua poi riusciamo Vediamo un po' Se di qua Non abbassate la guardia Avete letto il mio rapporto Usate quei danni per sconficherlo E' qua Ok, uno l'abbiamo seccato Ok, due Due seccati ragazzi Ne rimangono ancora quattro Se non erro Ok, terzo andato amici Il bersaglio avvistato sopra la mia coltivore Il bersaglio è sopra di noi Contatto visivo sul bersaglio No Il bersaglio è sopra di noi Contatto visivo sul bersaglio Ok Anderrex andato amici Il bersaglio è sopra di noi E' nell'attacco, Patman è lì con voi. Contatto, trovato dispositivo nemico. Ottimo direi, li abbiamo seccati tutti, andiamo a parlare col tipo, anzi direi andiamo a incartarlo. No, vediamo se funge. Sono migliore, Wayne. No, ok, allora hackeriamo. Hackeriamo, hackeriamo ragazzi, hackeriamo. Questo lo dici tu che non possiamo vincere. Ho salvato Gotham. Oracle, chiudi questo posto. Con piacere. Hai rovinato tutto. Levami le mani di dosso. Guarda cosa hai fatto. E poi niente. Non credi. Sei finito, Stritch. Ho molti amici potenti, Patman. Questo è solo l'inizio. Non puoi fermarmi. Presto comanderò eserciti, oltre ogni tua comprensione. Sono riuscito, dove persino Batman ha sempre fallito. Gotham ringrazierà per sempre Hugo Strange. Non sa che non lo ringrazio più nessuno. Il compito è finito, Professor Strange. Perché? Ho fatto tutto quel che volevi. Sicuro? Hai dimostrato chiaramente che Batman è meglio di te. Lascialo morire il detective. Era la tua marionetta, Rush. Perché? Hai detto che avrei preso il tuo posto. Questa era la nostra visione. Non la tua, non abbastanza. Ma... Quando mi hai portato l'identità di Batman, ti ho permesso di provarmi il tuo valore, fornendoti ogni genere di risorsa per il tuo piano. Cieli, quasi, ma alla fine hai fallito. Sta per morire, Rush. Dobbiamo portarlo da un medico. Ora! Fa come vuoi, detective. Per me lui è già morto. Sono così vicino. Mi serve soltanto più tempo. Ora è tardi. Hai già avuto la tua possibilità. È una buona giornata, detective. Buona! La gente sta morendo! Il mondo non li piangerà. Che ti importa? Ecco la mia opera. Certo hai sconfitto Strange, ma questo... Questo è solo l'inizio. Direi con me. Noi ripuleremo il mondo intero. Mai! Ti sbagli, Rush. Sei diventato ciò che hai sempre odiato. Quindi io ti fermerò. Hehehehe! Ne dubito. Computer. Attivare protocollo... undici. Menchia, pure il protocollo undici c'è ragazzi. Oltre il dieci anche l'undici. no 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 direi che è morto ragazzi ci risentiamo dopo ci sono novità ciao batman so che puoi sentirmi t'ho disturbato in un brutto momento tenevo ti fossi scordato del povero vecchio me dai un'occhiata alla tua ragazza oh come puoi vedere quel suo bel cervellino rischia di finire tutto spruzzato su questa telecamera ignoralo mio amato lascialo morire oh che romantico peccato proprio che non mi sia mai sentito meglio e sappiamo entrambi che non puoi davvero ignorarmi vero perciò ascolta batman sta preparando uno spettacolino per te sarà davvero imperdibile roba da grandi stelle del cinema ma mi conviene sbrigarti se ci metti troppo la trice protagonista potrebbe trovarsi morta nel camerino chiappe d'oro resisti arriveremo a salvarti ma questo lo vedremo successivamente ok amici io direi che il nostro episodio termina qui spero che la nostra avventura vi stia piacendo e in tal caso se non siete iscritti al canale iscrivetevi se vi è piaciuto il filmato lasciate un bel like vi ringrazio per il mio iscritto ci vediamo con il prossimo gameplay un saluto a tutti da GraceGamer78